Il presidente della regione Gianni Chiodi e l'assessore Paolo Gatti diano una risposta seria e concreta sullo scippo delle borse di studio per gli studenti dell'Aquila. Finora si sono limitati a risposte poco convincenti o peggio ancora a un imbarazzante silenzio. Questa la dura accusa dell'assessore al diritto allo studio del comune dell'Aquila Stefania Pezzopane, che è intervenuta di nuovo sulla questione dei tagli alle borse di studio. Un altro colpo basso a discapito dell'Aquila, proseguito l'assessore Aquilano. Dopo il dirottamento dei fondi della cultura con la legge 43, con cui altre province abruzzesi sono state avvantaggiate a scapito del capoluogo di regione, si ripete lo stesso scenario con le borse di studio. Di tutt'altro avviso invece il presidente della regione Gianni Chiodi, che ha così replicato. Questa è una situazione che l'assessore Gatti fa riferimento a una determina dirigenziale. Quindi le determini dirigenziali sono prese dai dirigenti e mi sembra che di questi fondi, mi continuo a dire, il 70% siano stati destinati all'Aquila. L'assessore Gatti sostiene dicendo che ci sono molti studenti, tra l'altro aquilani, che frequentano anche le università che non sono aquilani. È una questione sulla quale stiamo approfondendo e intendo approfondire. Grazie.